Benvenuti nella controrassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euro-atlantisti. Iniziamo dalla situazione drammatica per gli ucraini d'emergenza e di vittoria per ora tattica russa, di avanzamento, diciamo così, intorno alla città di Kharkov, la seconda dell'Ucraina del 91. Siamo nel nord-est del paese, ai confini russi di fronte c'è la città di Bielgara. Denuncito questa città a caso dopo gli attacchi continui degli ultimi mesi all'artiglieria e non solo anche i droni in mano Ucraina, forniti soprattutto all'Occidente ormai contro la stessa città di confine della federazione guidata da Putin. Iniziamo a quello che è stato riportato dal canale pubblico BBC inglese, molto atlantista, globalista e anche europeista, nonostante la Brexit. Ricorderete tutti la campagna anche durante la grande ondata migratoria del 2015-16 tra Serbia e Ungheria, cosa hanno fatto contro il governo Orban. Comunque gli ucraini non hanno saputo costruire delle linee difensive almeno efficaci, praticamente assenti in sostanza, proprio nei dintorni e nei soborghi della grande metropoli ucraina di Kharkiv o Kharkov, che dir si voglia in russo e in ucraino. L'esercito russo per questo motivo sta avanzando facilmente. A riferirlo la BBC intervistando parole di un soldato ucraino delle AFU di Sirsky. Nelle ultime giornate, ormai più di una settimana, ci sono stati, ammette l'emittente britannica nella stessa zona, degli avanzamenti piccoli ma costanti e importanti strategicamente dalla parte dell'esercito del Cremlino. L'Ucraina si è preparata male, si legge nell'articolo BBC, nonostante tutti gli avvertimenti e le dritte dai servizi segreti occidentali dell'Unione Europea, americani quindi della Nato in generale. Quindi nonostante gli avvertimenti degli ucraini, per diversi motivi, forse quelli citati più in basso nello stesso articolo che sto traducendo, le AFU non sono riuscite a creare una difesa efficace. Nella prima linea difensiva i russi hanno passeggiato senza incontrare degli ostacoli impegnativi, non ci sono dei campi minati. A denunciarlo è Denis Yaroslavsky, che è comandante delle AFU ucraine alla BBC britannica sempre. Lui ha anche mostrato ai giornalisti britannici delle immagini registrate da droni ucraini, che mostrano soldati russi che senza alcun ostacolo riescono a passare il confine del 91 tra Russia e Ucraina, a entrare in Ucraina nei soborghi della zona dell'Oblas regione di Archiv. Questo, secondo l'Ucraina, secondo il soldato, è una questione di neglicenza, di colpa di qualcuno o di corruzione all'interno delle fila ucraine. Questo è vero e proprio tradimento dalla parte di questi concittadini, compatrioti, denuncia sempre lo stesso comandante di Kiev. I russi hanno conquistato, dicono di aver conquistato, ovviamente le fonti ucraini confermano con molta lentezza in ritardo come quelle occidentali, vedremo poi una mappa occidentale della guerra per capire geograficamente quello che sta succedendo in queste ore. 9 paesini, cittadini e centri ucraini dell'Ucraina nel 91. Combattimenti in corso in queste ore, secondo gli ultimi bollettini di guerra ucraini e russi, per la città strategicamente importante, soprattutto per la logistica da difesa ucraina, di Volchansk. Siamo nei soborghi sempre di Kharkov. Secondo la BBC britannica, l'avanzamento russo degli ultimi giorni in questa zona ha preso circa la Russia a 100 km quadrati e ha quindi mangiato territorio ucraino. In precedenza, quindi circa due anni fa, i russi sono riusciti solo in diversi mesi di battaglie a raggiungere gli stessi risultati nelle stesse zone. Questo è molto importante per capire anche lo stato dell'erosione delle forze armate ucraine. Uno degli obiettivi dell'attacco russo del 22, quindi a febbraio 22, è l'inizio di questa fase internazionale della guerra. A marzo Putin, va ricordato, ha annunciato la volontà russa di creare una zona cuscinetto di sicurezza di circa 30-50 km i confini russi-ucraini del 1991 per impedire agli ucraini di bombardare con le armi, soprattutto occidentali, le regioni di confine russe come quella di Bielkarad. Per le accuse, cambiamo notizia, per le accuse ad un ministro e diversi viceministri ucraini dell'agricoltura è stato annullato l'incontro per quanto riguarda il grano, l'importazione in Polonia del grano e i cereali ucraini, per quanto riguarda quindi la politica alimentare, tutto il caos delle proteste che vanno avanti, anche sciopero la fame degli agricoltori polacchi proprio per l'import permesso senza dazi e senza quindi anche dei controlli di sicurezza alimentare, OGM e tutto il resto dalla parte dell'Unione Europea della Commissione von der Leyen. L'incontro bilaterale Varsavia-Chiev, programmato per il 14 maggio, quindi per ieri, è stato annullato a riferirlo Michal Kolodziejczak, spero di averlo pronunciato bene, viceministro dell'agricoltura di Varsavia, il governo e piattaforma civica in coalizione con gli altri, al giornale Jenny Gazeta Pravna. Andiamo avanti perché anche dalla parte del capo dei servizi militari ucraini, quindi della GUR, Kirill Budanov, c'è stata l'ammissione nelle ultime ore, forse l'avrete letto nei media principali italiani, di una situazione che peggiorerà sicuramente da qui in avanti, dal punto di vista militare, il fronte di guerra e non solo a Archifarkov, quindi nel nord-est del paese. Intervista ai Budanov al New York Times dell'altro ieri, se non ricordo male. Dice lui, siamo sull'orlo del Baratro, i russi guadagnano territorio terreno, l'obiettivo russo forse, preannuncia, annuncia Budano, prevede, è quello di conquistare in realtà 200 km più a sud in Donbass, Chassiviar o Chassoviar, importantissimo snodo strategico, logistico della difesa ucraina. Quindi distrarre le forze di difesa ucraina a Archif e a Sumi, per non dimenticare il fronte più a nord che si sta aprendo in queste ultimissime ore, per colpire in realtà obiettivi più a sud. Magari non prendere Archif dal punto di vista delle grandi città, ma prendere Odessa, tagliare l'Ucraina dal Mar Nero, da ogni sbocco sul mare e quindi ridurre anche l'importanza di quello che rimane di Kiev e per l'esportazione anche l'economia ucraina. Altri quattro centri conquistati dalle forze armate del Cremlino, sempre nella zona di Archif, Atisce, Krasne, Morohovec e Olinikove. A riferirlo, domenica, uno degli ultimi bollettini di guerra, il Ministero della Difesa, il portavoce Konashenko, non c'è più Shoigu come ha scritto in un messaggio su YouTube, ma adesso è arrivato addirittura un economista per sanare la crescita delle spese militari nell'esercito del Cremlino, come presa la decisione ovviamente dal Presidente della Federazione Vladimir Putin. Questa è la cartina filo-ucraina, vedete Belgarad e di fronte Archif, quello che stavamo dicendo. Vedete come le cartine anche filo-ultra-atlantiste, ucraniste in questo caso, siano molto lente nel riportare le conquiste russe, rispetto ovviamente, logicamente, all'annuncio di Konashenko e della parte del Ministero della Difesa del Cremlino. Vedete, ci sono anche delle conquiste, degli attacchi dalla parte del, quello che rimane in mano ucraina nel Danesk, quindi contro gli ucraini dalla parte russa. Questa zona vicino all'Isichansk, quindi siamo nel Luhansk. Lì di fronte l'obiettivo della linea difensiva ucraina, forse la più fortificata costruita a partire dal 2014, non va dimenticato, Sloviansk-Kramatorsk. Da notare anche il risveglio, forse, del fronte tra Kursk e Sumy, quindi i russi potrebbero varcare, forse lo hanno già fatto, secondo diverse fonti russe, il confine del 91 verso la città del settentrione ucraino. Nell'entra della parte occidentale, Casa Bianca, le forze armate russe preparano un attacco ancora più grande verso la città metropoli di Kharkov, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale a Stelle e Strisce. Washington dice che è molto preoccupata per la situazione in divenire vari fronti di guerra a Ucraina. I russi, che ricorda anche Kirby, hanno rivendicato la conquista di due nuovi paesini, proprio nel Luhansk, quello che vedevamo nella cartina ucrainista di prima. Un generale americano, per errore ufficialmente, ha rivelato il fatto che dei commando britannici, forze speciali, combattano effettivamente in Ucraina al fronte. Poi, dal stesso articolo pubblicato su Associated Press, è scomparso questo riferimento di un certo Brian Fenton. Le forze speciali britanniche avrebbero, secondo la testimonianza dello stesso generale americano, preso delle dritte dei consigli dalla parte dei piloti della RAF, Royal Air Force Britannica, dei consigli su come utilizzare dei droni, veicoli senza pilota, da ricognizione sul Mar Nero per andare a spiare sostanzialmente l'attività russa militare nella zona. E quindi un occidente che scivola sempre di più all'interno del conflitto, direttamente in una guerra, sempre meno per procura, purtroppo. L'ideona dalla parte di Berlino e della Germania e di certi politici di andare a fornire la difesa aerea alle città ucraine, dai bombardamenti russi, dai attacchi russi aerei, dal territorio di paesi nato, dell'Europa centro-orientale, quindi dai territori dell'Alleanza Nord-Atlantica. Nuova ideona dalla parte di un certo Nico Lange, politico della CDU, partito che fu della Merkel, cristiano democratico, cristiano solo nel nome, e di Heinrich Braus, un generale, tenente generale delle forze armate tedesche a Bundeswehr in pensione. 70 km, questa è l'idea, nei particolari, più in particolare, 70 km di zona Cuscinetto all'interno dei confini ucraini, quindi una specie di no-fly zone, ricorderete due anni fa quell'idea, tutta globalista in inglese, di andare a chiudere i cieli dell'Ucraina nella parte occidentale, tramite i caccia occidentali per esempio. Questa volta dai territori della Polonia, Slovacchia, Ungheria la vedo dura, e Romania, Slovacchia e Ungheria la vedo molto molto dura. Ideona della CDU al Frankfurt Allgemeine Zeitung, pubblicato da questo giornale teutonico. Mente per chiudere aggiornamenti dalla stampa ungherese, prospettiva ungherese, del governo ungherese, delle autorità giudiziarie e carcerali ungheresi, sulla questione SALIS, quindi attivista anarcho-comunista in galera in Ungheria, dopo accusata di aver aggredito diverse persone, nove persone, nove vittime, in diversi attacchi in Ungheria Budapest nel febbraio 2023, e non contro due nazisti, come scrive ancora la propaganda italiana. Dice l'autorità giudiziaria, scusate, carceraria ungherese BVOP, che le accuse di Roberto SALIS, forse al governo italiano, forse all'Ungheria non si è ben capito, a mezzo stampa italiana, avrete letto vari articoli, che nel carcere ungherese non venga poi, questa è l'accusa, garantito il diritto di voto all'europea della figlia, Ilaria SALIS candidata per Alleanza Verdi a Sinistra, è una bugia dalla parte ungherese, perché, come si legge nel rapporto della stessa autorità carceraria Maggiara di Budapest, secondo una legge 131 del 2013, delle leggi proprio carceri, che vanno a regolare la vita carceraria, ogni detenuto ha il diritto, il sacrosanto diritto, di esercitare il diritto di voto anche per le europee, forse ci sono dei vuoti normativi dalla parte italiana, nessuno lo sa, non l'ho ben capito, non sono un giurista, comunque l'obiettivo, non ci sono delle volontà dalla parte delle guardie carcerarie ungrese di impedire il diritto sacrosanto di voto di un detenuto, poi la stessa autorità ha respinto ogni accusa di trattamento disumano, di condizioni carcerarie, l'autorità carceraria respinge ogni accusa da parte di Roberto SALIS, assolutamente infondata, che vanno gravemente ad offendere il lavoro dei nostri colleghi nelle carceri della capitale ungrese, non solo. Per chiudere, risposta molto dura dalla parte del ministro degli esteri, Siarto Petra, un giornalista in italiano, durante una conferenza stampa a Londra, proprio sulla questione di SALIS, domanda del giornalista italiano che difende la SALIS, evidentemente, vedete anche, c'è anche il video su Facebook, pubblicato al ministro ungherese, in inglese, la domanda, potrebbe esserci in futuro una vergogna per l'Ungheria, Buda, pace nei carceri ungheresi, un europarlamentare italiano, nel mentre l'Ungheria prende la presidenza di turno del Consiglio Europeo, la risposta del ministro Maggiaro. Quello che è veramente vergognoso, come i media italiani non solo, si rapportano con questa situazione, con questo caso giudiziario non politico, di come ha reagito gran parte della politica italiana. E' veramente vergognoso, scioccante, come voi difendiate una persona che è arrivata a Budapest in gruppo, con manganelli, armi, eccetera, per menare delle persone, colpire fisicamente. Dovete per forza considerare questa persona un eroe, una martirina, una Giovanna d'Arco, per citare anche il padre Roberto. Non hanno trovato a Budapest delle persone di estrema destra, ma hanno cacciato le persone sulla base di come erano vestiti, vestiti scuri e magari capelli corti. E per questo sono state considerate dagli anarcho-comunisti delle persone da colpire di estrema destra. Caro giornalista, giornalisti anche e soprattutto italiani, avete visto le foto delle vittime, di come un ragazzo sia stato menato, martellato sulla testa con tutte quelle cicatrici e rischiato addirittura di morire. La cosa grave è che voi accusate noi, l'Ungheria, per come trattiamo i carcerati, questa carcerata nelle carceri di Budapest. Sì, la teniamo in carcere. Cosa dovremmo fare? Si domanda polemicamente il Magiaro. La dovremmo mettere come simbolo del futuro europeo a Piazza degli Eroi in Ungheria, una piazza molto famosa. Chiude, si Arto Peter? Con questa notizia vi lascio, grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio e Rorsag.